Ed eccoci arrivati alla fine di questo meraviglioso viaggio per la storia di Roma. È stato qualcosa di magico poter passeggiare negli stessi sentieri. Solcati duemila anni fa dai nostri avi, poter osservare dove lavoravano, come vivevano, quali fossero le attività quotidiane che svolgevano, comprendere meglio la storia dell'antica Roma. Il tutto passeggiando in un enorme parco verde, con una natura rigogliosa, ricca di prati, alberi, canali d'acqua e laghi circondati dal solo rumore degli uccelli e del vento che muove le fronde degli alberi. Non c'è che dire, il parco archeologico dei porti imperiali di Claudio e Traiano è un luogo da visitare almeno una volta nella vita, non solo per osservare il più grande porto dell'antichità ma anche per capire le nostre origini, non quelle origini regali che ci raccontano i libri di storia, ma la vita di tutti i giorni, uomini e donne come noi che duemila anni fa volevano vivere e sopravvivere come noi, magari con i loro sogni, desideri, forze e debolezze, pensando ad un futuro che noi oggi viviamo e che per loro era semplicemente un tempo inimmaginabile. È semplicemente straordinario pensare che nelle nostre vene scorre anche il loro sangue e che il loro genio, la loro sagacia, la loro cultura pernia completamente l'attuale società civile occidentale. Lì dove vediamo reperti archeologici e resti di edifici c'era una volta un impero che ha letteralmente costruito e modellato la nostra società, con le sue positività e le sue negatività, ma ricca di cultura, arte, diritto, sapere e ingegneria. Riprendiamo il sentiero e ci dirigiamo verso l'uscita attraversando un grande campo verde e superando un ponticello in muratura mentre una famiglia di nutri e lo attraversa placidamente. Dopo pochi passi arriviamo all'entrata e mentre ci giriamo un'ultima volta per osservare la meraviglia che ci circonda, salutiamo con un pizzico di dispiacere questi luoghi magici, consci che non sarà sicuramente l'ultima.